Buongiorno Alessandra Lattarulo, buongiorno Lillo Bux, consulente immobiliare della Remaxi Stella Polare. Questa mattina vi mostreremo un appartamento ai confini tra Carrassi e San Pasquale. Seguiteci! L'appartamento si trova al piano rialzato di uno stabile di 6 ed è stato ristrutturato l'ultima volta nel 2005. I materiali utilizzati dai proprietari sono di ottima qualità, pavimento grass, sovrapposto e infissi vetrocamera. L'utilizzo che se ne può fare è quello di accogliere una giovanissima coppia oppure un nucleo familiare già con figli. Abbiamo infatti una comoda seconda camera da letto oppure utilizzarlo ancora come investimento proprio per la zona in cui si trova, esattamente tra Giulio Petroni e Corso Benedetto Croce. La casa ci fa entrare da una porta blindata in un ingresso open, confortevole. C'è un grande ripostiglio e proseguendo il corridoio troviamo le due camere che ora sono letto, la cucina abitabile ed il bagno. Suggerisco anche, considerando il piano, un investimento per sistemazione di uffici. Il riscaldamento è autonomo. Concreti nei particolari abbiamo terminato, ora vi aspettiamo per visitarlo, quindi prenotate al numero di agenzia. L'immobile è sicuramente interessante sia per la zona che per la distribuzione. Chiamateci per fissare un appuntamento. Chiamateci per Grazie a tutti